Ciao, benvenuti ad un altro appuntamento con le recensioni di Mr. Gadget. Oggi per conoscere Sony Xperia 1 Mark II, secondo capitolo della storia che Sony sta cercando di scrivere con quelli che più che telefoni che fanno fotografie potrebbero sembrare delle macchine fotografiche che poi fanno anche i telefoni. Tre sensori fotografici sul retro, un sensore sul fronte, non c'è notch, non c'è gocce, non c'è camera pop-up, semplicemente delle cornici un po' old style. Ma torniamo dopo al telefono, adesso vediamo confezione con caricabatterie, cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e poi le cuffiette, dettaglio delle cuffiette, lo si vede, aspettate che cerco di recuperarle, lo si vede qui, c'è il jack, porca miseria non viene fuori, adesso spacco tutto, c'è il jack nelle cuffie perché anche il telefono offre il connettore da 3,5 mm che è una delle sue caratteristiche principali. Allora, guardiamo un po' questo telefono, il design ricorda un po' il famoso Omni Balance di qualche anno fa, il design quadrato, pulsante per la fotocamera, il pulsante di accensione che poi nasconde anche il sensore delle impronte digitali, controllo del volume per noi volume rocker e da questa parte il cassettino per le due nano sim o la sim e la micro sd, cassettino che si può sfilare anche senza l'uso del famoso piripacchio, quindi un po' più comodo dal punto di vista proprio della fruizione di tutti i giorni. Come detto, delle belle cornicioni vecchio stile per un display che però ha delle caratteristiche veramente pazzesche. È un display OLED con 6,5 pollici di diagonale, 98,6 cm2 di superficie totale, 94%, scusate, 84%, stavo impazzendo perché 94% sarebbe impossibile con queste cornici, 84% di rapporto tra schermo e superficie, una leggibilità che ha un angolo di visione semplicemente impressionante e anche una definizione elevatissima, 1644 x 3840 pixel. Questo display che ha questo livello di leggibilità folle ha una protezione con un Gorilla Glass 6 e anche un HDR BT 2020, quindi veramente dal punto di vista del display siamo davanti ad un prodotto molto bello. Ci sono pensate addirittura 643 pixel per pollice. Dentro questo telefono che è estremamente veloce in tutto ciò che fa e che ha un software molto vicino ad una soluzione stock, veramente fatto con una semplicità notevole, questo telefono ha uno Snapdragon 865 al suo interno. In alcuni paesi curiosamente il 5G è stato eliminato, chissà perché, ci sono, non da noi in Italia, ci sono essenzialmente 256 giga di memoria, espansione tramite microSD, 8 giga di RAM, Adreno 650 come GPU e abbiamo anche, che è importante, la memoria con lo standard UFS 3.0. Dietro tre sensori, tutti da 12 megapixel, 24-70 mm e anche una 16 mm con un'apertura di 124 gradi. Quindi il sensore principale, lo zoom e poi il grandangolo. Sulla parte frontale, invece, c'è la fotocamera da 8 megapixel che forse è il punto debole della parte fotografica del telefono. Notevole la batteria, che non è grandissima perché è una batteria da 4000 mAh, supporta il fast charging da 21 W, ha anche la ricarica wireless, quindi si può utilizzare in un modo davvero molto molto semplice, si sostiene fast charging, abbiamo sempre la modalità stamina per la protezione, quindi tutto sommato, insomma, un telefono che ha tutte le caratteristiche in regola per piacere. Ma che cosa ha di particolare questo Sony? Allora, due caratteristiche fondamentali. Questa fotocamera, che si chiama CinePro, che è derivata da quelle che sono le soluzioni per il cinema, le fotocamere professionali, vedete, con un miliardo di personalizzazioni, potete davvero selezionare tutti i parametri possibili e immaginabili che sono a disposizione in uno strumento che è uno strumento professionale. Ecco, l'unico difetto, secondo me, è che non funziona, però non potete metterlo in orizzontale. È anche vero che difficilmente chi usa questo genere di strumenti vorrà fare un video in orizzontale che probabilmente schifa per religione, però è un peccato, insomma, che non ci sia questa opzione. Lo stesso tipo di profondità di menu, di selezioni, di possibilità di controllo esiste anche per la fotocamera. Vedete, avete tutti i menu possibili ed immaginabili che potete gestire, come se steste usando una Alpha 9, quindi essenzialmente lo stesso tipo di interfaccia con cui potete governare tutte le funzioni della fotocamera in modalità Pro. Se non vi sentite pronti per questo tipo di gestione, avete comunque la fotocamera tradizionale. C'è un dettaglio che, più di uno in realtà, che mi ha un po' lasciato perplesso di questa fotocamera che comunque ha un livello qualitativo molto buono, devo dire, veramente notevole. Quello che mi ha lasciato perplesso è che in un telefono che ha una radio 21.9, ci sia il pulsante per cambiare la fotocamera qua in cima. Questo perché, essenzialmente, quando state utilizzando il telefono, spesso non riuscite ad arrivarci. Facile trovare invece il formato con cui scattare la vostra fotografia. Queste sono le opzioni per cui potete scegliere essenzialmente come utilizzare la vostra fotocamera e con quale tipo di definizione. Questo invece vi permette di passare dal grand'angolo allo zoom, passando per la fotocamera principale. Quando utilizzate, invece, vedete la fotocamera video, cambia leggermente il menu nella parte superiore e invece avete sempre il passaggio tra i tre diversi sensori nella parte inferiore. A proposito dei sensori fotografici, c'è la stabilizzazione ottica su due dei tre. L'unico senza stabilizzazione ottica è il grand'angolo. C'è la possibilità di fare video in 4K con 25, 30 o 60 frame al secondo, mentre la fotocamera frontale fa video invece che sono in versione Full HD a 30 frame al secondo. L'unica cosa un po' curiosa è che mi sarei aspettato la possibilità di saltare da un sensore all'altro utilizzando lo zoom della fotocamera e invece tutte le volte quando volete cambiare essenzialmente il tipo di inquadratura, quando volete cambiare il vostro tipo di lente che dovete utilizzare, lo dovete fare voi manualmente. Sarebbe carino invece che automaticamente nello spostarsi con lo zoom ci fosse la possibilità di gestire questo genere di parametri. Per scegliere le altre modalità Sony ha messo questo tipo di menu inguardabile secondo me dal punto di vista estetico. Non so perché siano rimaste queste reminiscenze di vecchi software in un telefono che tutto sommato invece ha aggiornato molto il suo aspetto, ha reso il suo aspetto molto gradevole. Vai a capire perché insomma siano rimasti esattamente quei dettagli. Volevo farvi sentire un altro elemento importante se arrivo a scrivere la cosa giusta al momento giusto, cioè il volume. Allora questo ci serve per individuare gli altoparlanti di questo telefono, vedete nella fessura superiore e poi nella parte inferiore del telefono. Vedete che non c'è altoparlante qui sul bordo perché c'è questa fessura, ecco adesso la vediamo, questa ampia fessura che serve per riprodurre l'audio con un volume che vedete se io copro la parte inferiore e essenzialmente impedisco all'audio di uscita nella parte inferiore, però vedete quanto è alto il volume anche nella parte superiore. Non è un audio potentissimo dal punto di vista dei bassi, però si comporta bene. A proposito di qualcosa che non è potentissimo, in questo momento io non ho inserito la sim perché sto provando un altro telefono, ma quello che ho trovato invece un po' titubante di questo telefono è la ricezione telefonica. Non so per quale ragione si possa avere nel 2020 ancora un telefono con qualche incertezza nella ricezione telefonica, eppure è capitato. Questo è un dettaglio che mi ha lasciato un po' perplesso. Però ecco, nel complesso, io vi devo dire che pur con un prezzo molto elevato, non vi nascondo, trovo che questo Sony sia forse uno dei telefoni più belli che io ho provato nel corso di questi 2020. Sì, 1200 euro sono tanti, la fotocamera è buona ma non perfetta, però vi devo dire che questo è veramente un oggetto eccellente. Abbiamo detto che la batteria ha un livello veramente notevole. Sei ore ho fatto di schermo acceso con questa batteria, per un prodotto di questo genere non è niente male. Ah, dimenticavo una personalizzazione del software, che viene praticamente con questo tocchetto che potete dare al bordo del telefono. Avete visto? Basta praticamente un doppio tocco. Siete voi a scegliere quali menu e quali parti del telefono volete, quali essenzialmente scelte, shortcuts, volete mettere lì vicino. Potete anche in questo modo attivare il telefono con la modalità a una mano. Vedete? Doppio tocco. Ecco, l'unica cosa è trovare sempre il punto esatto. Oppure scegliere anche le app a più finestre, per cui potete buttare dentro le app che volete utilizzare per avere la visualizzazione a più finestre. Con un telefono di questo genere, che ha un ratio 21 noni, avete la possibilità di aprire più app e di avere una buona e ampia visibilità per ciascuna. Non vi nascondo che mi è piaciuto veramente tantissimo e che questo per me è uno dei migliori prodotti in assoluto in circolazione in questo momento. Grazie. Grazie. Grazie.